Niente più posti a terra per le tumulazioni nel cimitero monumentale dell'Aquila. Entro la fine del 2023 sarà necessario esumare le salme che sono sepolte da più di dieci anni per dare nuovi spazi. Si tratta però, spiega l'assessore Fabrizio Taranta, di un'operazione ordinaria che si ripete ciclicamente. Nessuna emergenza dunque. A stabilirlo però è un'ordinanza dei giorni scorsi del sindaco Pierluigi Biondi, nella quale si fa riferimento espressamente alla scarsità di terreno disponibile nel campo comune, cioè a terra. Non c'è nessun tipo di emergenza per le sepolture a terra nel nostro cimitero monumentale. Abbiamo disponibilità nei vari campi che sono presenti all'interno del cimitero appunto per le sepolture a terra. Quest'ordinanza è un'operazione ordinaria che si ripete nel tempo perché le sepolture a terra, a differenza di quelle nei loculi, hanno una durata che è di dieci anni. Quindi passati i dieci anni, per questioni legate poi alla mineralizzazione delle salme, si spostano da terra. Insomma c'è tutta un'operazione che si ripete ciclicamente, non perché ci siano emergenze, ma perché è la norma sostanzialmente che lo prevede, o comunque la gestione ordinaria delle sepolture a terra nei nostri cimiteri. In realtà qualche cittadino aveva lamentato il problema dei loculi tradizionali, ma il Comune spiega che l'emergenza oggi è superata. Sui loculi effettivamente c'è stato un periodo in cui avevamo carenza o addirittura assenza di disponibilità di loculi. Abbiamo cercato di risolverlo nel breve periodo con la sistemazione di una parte del cimitero, l'abbiamo appunto risistemata, resa agibile, diciamo così, e all'interno di questo locale ci sono 87 nuovi loculi, quindi abbiamo una nuova disponibilità dalla fine dell'anno appena passato di 87 nuovi loculi che ci permette di superare quella piccola emergenza che si era creata per l'assenza dei loculari.